Musica Io le Santelli si insedia alla guida della regione, la neogovernatrice ha varcato l'ingresso della cittadella poco dopo le 10 di questa mattina. Passaggio di consegne con il vicepresidente della giunta uscente, Francesco Russo, assente il presidente uscente, Mario Liverio. Comunali alla mezzia terme, chiesto l'annullamento del voto in 48 sezioni. Il 7 aprile l'udienza al TAR, l'aspirante sindaco Massimo Cristiano e alcuni dei candidati nelle sue liste hanno proposto ricorso per l'annullamento dei verbali. Crisi dei call center, conferenza dei vertici della Will e Willcom. Il futuro di migliaia di lavoratori, molto spesso precari e appeso ad un filo. Le aziende chiudono o delocalizzano. Calabria attorno, il treno verde di Lega Ambiente e Ferrovie dello Stato. Prima tappa alla mezzia terme per raccontare gli effetti della crisi climatica e le buone pratiche per fermarla. Appuntamento con l'altro Corriere Tg, ben ritrovati dalla redazione. L'apertura di oggi è dedicata all'insediamento di Iole Santelli alla cittadella regionale, la prima giornata da governatrice, tra virgolette, della Santelli, che è ufficialmente il nuovo governatore da quando si sono chiuse le urne ed ha ottenuto oltre il 55% dei consensi che le hanno permesso di trionfare contro lo sfidante Pippo Callipo. Ancora una volta emozionata la Santelli che ha parlato però del futuro faremo gioco di squadra. Vediamo. Si è insediato questa mattina a Catanzaro il nuovo presidente della regione Calabria, Iole Santelli. Dopo la proclamazione avvenuta sabato scorso, Santelli, eletta alle regionali del 26 gennaio scorso, con il 55% dei voti, ha abbarcato l'ingresso della cittadella a sede della Giunta poco dopo le ore 10 e ha incontrato per il passaggio delle consegne il vicepresidente uscente Francesco Russo. Assente invece l'ex governatore Mario Oliverio fuori Calabria per motivi personali. Russo ha consegnato alla Santelli un mazzo di fiori e anche un report sui 5 anni di amministrazione Oliverio. La neo-presidente della regione ha firmato i documenti di insediamento consegnandoli al segretario della Giunta regionale Ennio Apicella. Il neo-governatore ha parlato del percorso della sua amministrazione che sarà portato avanti senza pregiudizi politici, garantendo la necessaria continuità. Questa regione ha invertito la rotta, soprattutto della sua reputazione, del suo futuro. Tutto un velo e serio allo sviluppo della Calabria e i calabresi meritano. I riflettori, i flash e le attenzioni sono tutti puntati sul primo giorno da governatore Diolè Santelli, ma quanto sta accadendo fuori dalle mura della cittadella è altrettanto importante. In questi giorni, infatti, dovrebbe completarsi la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale che, secondo quanto affermato dalla stessa neo-presidente, non dovrebbe riservare sorprese, ma il condizionale in questa materia è sempre d'obbligo. L'attenzione si sposterà sulla formazione dell'esecutivo, sull'insediamento del Consiglio regionale e a cascata sulla distribuzione del potere e del sottopotere. Ma ancora prima, Iole Santelli darà le prime coordinate sul quadrante della propria visione, le direttrici lungo le quali gli assi portanti di una visione di governo declinano la gerarchia delle procedure, un nuovo progetto di vita da condividere con gli eletti e con tutti i calabresi che credono che la Calabria abbia diritto ad un futuro diverso e migliore, per citare la neo-presidente che oggi ha sottolineato ancora una volta l'importanza del gioco di squadra. Insieme attueremo i nostri progetti, supereremo mille ostacoli, affronteremo i problemi, insieme costruiremo il futuro. Ai posteri, l'ardua sentenza. Questi dunque gli impegni presenti e futuri della neo-governatrice. Alla mezzia terme invece è arrivata l'ex ministro Angela Finocchiaro che ha partecipato alla lezione inaugurale del secondo anno di attività della Scuola di Formazione al Bene Comune. Il Sud ha detto ai nostri microfoni la Finocchiaro si alzi in piedi per reclamare. Uguaglianza. Sì, io mi permetto di dire una cosa. La cittadinanza solitaria e quindi l'individualismo, il distacco rispetto alle istituzioni, la non partecipazione, il non prendersi carico in qualche modo delle sorti della propria comunità neanche andando a votare, tutto questo rappresenta un impoverimento anche di quel bagaglio di diritti di cui ciascun cittadino gode. La cittadinanza, grazie alla Costituzione italiana, è potente. Ma se è solitaria, se è remissiva, se è rinunciataria non riesce ad espandersi, direi ad esplodere nella propria potenza. Ecco perché io mi permetto di dire fate del vostro diritto un'arma per combattere non solo per voi stessi ma anche per gli altri. L'impegno per l'uguaglianza è nutrito di sostanza, non soltanto di proclamazione. Ed è ovvio che la disuguaglianza non dipende soltanto dal sesso, piuttosto che dalla religione, piuttosto che dalle idee politiche, ma delle condizioni che ostacolano, dice la Costituzione, nel pieno sviluppo della persona umana, a fini di partecipazione. C'è sempre questa finalità che i costituenti vollerò sottolineare. E dunque che dubbio c'è che essere un cittadino del nord e un cittadino del sud rappresenta una disparità e che è una disparità sulla quale occorrerebbe lavorare. Ma questo non potrà farsi se i cittadini del sud non si alzano tutti in piedi a reclamarlo. Restiamo alla mezza terme, ma per parlare di un ricorso che rischia ovviamente di sconvolgere, di sparigliare le carte per quanto riguarda il comune e l'elezione del sindaco Paolo Mascaro. Perché? Perché uno dei candidati a sindaco, Massimo Cristiano, ha deciso di fare ricorso chiedendo l'annullamento del voto, segnalando omissioni, anomalie. Il 7 aprile ci sarà l'udienza al Tar. Elezioni di la mezza terme sotto i riflettori del Tar. Sarà discusso infatti il prossimo 7 aprile il ricorso elettorale presentato dal candidato a sindaco della mezza terme Massimo Cristiano, assieme ad altri candidati che lo hanno sostenuto per l'annullamento del verbale di proclamazione del sindaco Paolo Mascaro e degli eletti al Consiglio Comunale, oltre che di quelli relativi alle operazioni elettorali anche di 48 sezioni. Il decreto del Presidente della seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, Nicola Durante, ha quindi indicato la data per la discussione del ricorso presentato da Cristiano e dai candidati delle liste La Svolta e Nuova Lamezia. Secondo i ricorrenti ci sarebbero gravissime omissioni e violazioni e irregolarità sostanziali riscontrate. L'obiettivo è quello di far disporre ed altare il rinnovo delle operazioni elettorali in tutte le sezioni indicate. Nel ricorso si sono costituiti il Comune di Lamezia Terme, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia e il Consigliere Comunale Rosario Piccioni, anche egli candidato a sindaco. Alla pubblica udienza i ricorrenti insisteranno per l'annullamento delle operazioni elettorali e qualora si rendesse necessario, affinché si proceda alle verifiche di legge attraverso l'apertura di tutte le buste delle sezioni elettorali segnalate nel ricorso, operazioni che si svolgeranno qualora fosse necessario in prefettura. Adesso la cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per domare un principio di incendio che si era sviluppato a causa di un cortocircuito, probabilmente in un contatore dell'energia elettrica negli uffici amministrativi dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. I vigili nel corso dell'intervento hanno anche soccorso un'anziana che a causa del cortocircuito era rimasta bloccata in un ascensore. Sul posto anche la Polizia di Stato che ha messo in sicurezza la zona. Adesso la crisi dei call center, una crisi che sembra irreversibile con un futuro appeso a un filo per i tanti dipendenti, spesso precari, le aziende intanto per abbattere i costi, che cosa fanno? Alcune purtroppo non ce la fanno e chiudono, altre scelgono di delocalizzare. È un settore cruciale per il mondo del lavoro in Calabria, ma i livelli occupazionali continuano a rappresentare più di una preoccupazione per migliaia di persone. Quello dei call center infatti sta affrontando l'ennesima crisi, sulla quale grava un buco normativo nazionale e le enormi difficoltà delle aziende del settore e le prese con i costi in continua crescita. E hanno discusso questa mattina la mezza e i dirigenti della Wilcom alla presenza del segretario nazionale. E la cosa ancora più grave è che le istituzioni, i governi, anziché affrontare il problema, fanno soltanto enunciazioni magari durante i periodi di campagne elettorali e poi quando chiediamo ai ministri, come quello dello sviluppo economico, di aprire un tavolo chiamando tutti i soggetti importanti, questo tavolo o viene disdettato o non viene mai convocato e nel frattempo il sindacato si fa carico con responsabilità di provare a gestire i momenti di tante crisi che ci sono e che colpiscono tutte le aziende del mondo dei call center, anche quelle che sono in Calabria, per cercare di difendere l'occupazione. Però è una situazione molto ma molto difficile ormai, dopo tanti anni in cui i vari governi che si sono succeduti non hanno mai voluto seriamente affrontare il problema. Fondamentale per scongiurare l'ennesima crisi del settore delle telecomunicazioni dunque l'impegno del governo Conte, ma anche quello della neo insediata Iole Santelli. Noi presenteremo alla nuova governatrice una proposta per poter risollevare le sorti della Calabria in questo ambito. Il problema è un problema serio perché riguarda oltre 6.000 lavoratori. Subito sono impattati 3.500 lavoratori di Abramo che stanno attraversando una crisi senza precedenti. Già sono impegnati con il segretario nazionale a intervenire su telecom per garantire le condizioni minime di lavoro in questa terra. Noi siamo sul pezzo, lo dimostriamo oggi con la presenza del segretario generale nazionale della GULCOM qui in Calabria. Se non sarà così, noi oggi facciamo questa iniziativa, questa conferenza stampa, ma dalla fase di informazione, di comunicazione, stiamo facendo anche delle assemblee con la categoria all'interno dei luoghi di lavoro, abbiamo avanzato anche delle proposte, ma laddove queste non troveranno soddisfazione sul momento regionale e quello nazionale, ci sarà certamente una fase di mobilitazione importante all'interno della regione. Torna alla campagna di Lega Ambiente e Ferrovie dello Stato, la 32esima edizione del Treno Verde, quest'anno tappa nella stazione di La Mezzia Terme. Si rinuova la campagna di sensibilizzazione ai temi dell'ambiente ideata da Lega Ambiente, insieme a Ferrovie dello Stato, giunta quest'anno la sua 32esima edizione. Il tema scelto per il 2020 è il Change Climate Change, che nel corso degli ultimi mesi ha assunto i contori di una vera e propria emergenza mondiale, grazie anche alle numerose manifestazioni ambientaliste organizzate in giro per il mondo. E questa mattina la Mezzia Terme ha fatto tappa il Treno Verde di Lega Ambiente, un convoglio ideato per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma soprattutto per mostrare le buone pratiche e per cercare di arginarli. L'obiettivo del Treno Verde quest'anno è portare questa tematica che viene portata avanti ormai da più di un anno, anche dai giovani dei Friday for Future, nelle piazze in cui chiedono azioni concrete ai governi di tutti i livelli, quindi dai comuni, le regioni al governo nazionale, ogni livello ha le sue responsabilità, ma è anche un modo per raccontare quello che ciascuno di noi può fare all'interno della propria quotidianità per cercare di emettere meno gas e clima alteranti e quindi cercare di rendere il nostro pianeta o anche le nostre città più sostenibili. Con un bassissimo impatto ambientale e la possibilità di raggiungere in modo capillare il territorio, il trasporto ferroviario è l'ideale nell'ambito della sostenibilità ambientale, anche in Calabria. FS si sta promuovendo come player per le tematiche di sostenibilità, rinnovando tutta la flotta, stiamo comprando nel trasporto regionale nuovi treni, in Calabria ne arriveranno 27 che consenteranno un pressoché rinnovo totale della flotta, che sono treni costruiti con materiale al 100% riciclabili e sono meno energivori, consumano fino al 30% di energia in meno, quindi hanno minori emissioni di CO2. E poi stiamo promuovendo, tra l'Italia le ferrovie stanno promuovendo, in Calabria abbiamo degli esempi di successo, lo shift modale, il trasporto, l'intermodalità, cioè la possibilità di connettere i territori con più soluzioni di trasporto su ferro e su gomma. Abbiamo attivato altri esempi di combinato modale per collegare le università, per collegare i luoghi in interesse della Calabria. A Cosenza adesso nella sede di Confindustria per il seminario L'Impresa Riformista. Vediamo. Una visione nuova delle imprese che racconta quanto essa sia un pezzo importante della società. Questo il tema centrale del seminario di Confindustria a Cosenza, L'Impresa Riformista, Lavoro, Innovazione, Benessere e Inclusione, che rientra nell'iniziativa Libri per lo Sviluppo, che da 15 anni promuove l'associazione. Il tema, discusso in una gremita sala conferenza di Assindustria, preso spunto dal volume scritto dal direttore della Fondazione Pirelli e presidente di Muse Impresa Antonio Calabro, che ha parlato di spinte demagogiche e populiste che rischiano di innescare un pericoloso clima anti-impresa in contrasto con i reali interessi di fondo del Paese. C'è una parola chiave che si chiama sostenibilità ambientale e sociale. La domanda a cui si prova a dare una risposta è è possibile continuare a costruire innovazione, ricerca, lavoro, manifattura rispettando l'ambiente e rispettando gli interessi delle persone? Il libro prova a rispondere a questo, tenendo conto del fatto che l'impresa italiana sia a nord, dove è tessuto imprenditoriale più diffuso, sia nel mezzogiorno, dove ci sono delle ottime testimonianze di attività imprenditoriali, essere sostenibili e nella natura stessa delle nostre imprese. Il rapporto col territorio, una sapienza manifatturiera che è maturata negli anni, un'attenzione rispetto alle comunità locali. Oggi in realtà si parla poi di impresa e quindi è ovviamente assolutamente idonea la sede di Confindustria per questo incontro. Si parla di un'impresa nuova probabilmente, ma più che altro di una visione nuova dell'impresa, ma che è già assolutamente reale all'interno della nostra società. L'impresa è un pezzo della società, un pezzo importante della società. Attraverso l'impresa, Adriano Livetti diceva che le merci partono per tutto il mondo e poi ritornano a noi e si trasformano in stipendi che a loro volta si trasformano in casa, pane e dignità. E con questo è tutto, l'appuntamento con il nostro TG termina qui. Grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con il Talk Politico 2020. tanti gli ospiti in studio per il nostro consueto appuntamento con la politica e l'attualità appuntamento questa sera alle 21. Per il momento è tutto, grazie ancora per la cortese e attenzione. Grazie a tutti.